Ciao ragazzi benvenuti nel mio canale. Con Kerem Bursin e Afsanur Sanktutan, la serie, precedentemente chiamata Ghanim, sta iniziando ora. Lo chiamavamo Noto in passato, perché deve cambiare nome per questioni di diritti, ora si capisce chi si chiama Korkutuk. Abbiamo foto della prima lettura, foto teaser, video di prove costume, è tutto lì e dobbiamo condividerlo subito con i fan. Mercoledì 7 giugno sono iniziate le letture del copione come vi avevamo detto. Bene, ecco i due personaggi principali che sono felici di incontrarsi e iniziare una serie che sembra fantastica. Vediamo Kerem felicissimo, sorridente, con il cappellino da baseball e la visiera capovolti, normale, perché quando lo indossa bene fa ombra e leggere Gulinkis. E accanto, Afsanur sembra l'acconciatura della serie, ondulata e sciolta. Perché sappiamo che sarà lui? Bene, perché ci sono anche i filmati della sessione fotografica in cui promuoveranno la serie. Attenersi al look, perché i poster e le foto su internet porteranno quell'immagine. Entrambi vestiti di blu dalla testa ai piedi, posano per la macchina fotografica e diventano la coppia dell'anno nel romanzo turco. Afsanur e Kerem si sono improvvisamente resi conto di quanto andassero d'accordo e hanno sparato bene. L'hanno mostrato troppe volte. Aggiungi questo a entrambe le loro storie di Instagram. Possiamo anche vedere nelle sue immagini caricate. Stiamo iniziando, dice Kerem. Da qui fino alla sua premiere prevista per luglio, i nostri ragazzi e altri attori si stanno attrezzando per regalarci una delle serie che faranno la storia. Non vediamo l'ora che inizi ora. Grazie a tutti.